Allora, ah ecco, riprendiamo in mano vecchie glorie del passato un Black Ops 1 che forse, sì, mi ha fatto apprezzare la Treyarch. Come da intro possiamo vedere subito Black Ops 1 ovviamente, andiamo su Xbox Live, io voglio farmi una partitina immediata, partita giocatore, non so se vi ricordate ma qui le armi dovete comprarle con dei soldi, ovviamente qui ho già un po' di personalizzate e da un sacco che non ci gioco, io di solito utilizzavo, ho visto il comando. Andiamo su Trova Partita, andiamo su Recluta, andiamo su Tutti Contro Tutti perché lo sapete come gioco io da solo. Ecco messaggi subliminali ragazzi, Crysis per farmi giocare, vogliono che giochi a parole mie ragazzi, a Crysis 3. Allora, è difficile anche trovare una partita, va bene, riproviamo. Andiamo su, ragazzi, andiamo su Deathmatch, Deathmatch Squad. Oh ragazzi, Deathmatch me lo trova subito, grandissimo. Allora. E anche veloce, dai dai. Xbox molesta che sta facendo un casino. Mettiamoci le cuffie. Allora. Allora. Cazzo ragazzi quanto è duro. Quanto è duro questo cazzo di controller. Come finito? Bello, 3 contro 4 ragazzi, bellissimo. Mi hanno detto che è pieno di jumping in questo gioco. In questo gioco, scusate. Olè, grande. U2 alleato in arrivo. Mamma mia, il comando è solo forte raga. U2 pronto. Grande. Il nostro U2 è in volo. Cazzo. Grande. Andiamo giù ragazzi, subito. Eh, è vero che ho sciaccarlo, raga. E lo so che non ci gioco, non mi ricordo neanche che è il grassio. Dai, siamo già 4-0, raga. Olè. Manna buone. E' il mio buone, raga. Il nostro U2 è in volo. Cobra pronto. Cobra alleato in arrivo. Oh yeah! Fan chiulo. Ma, ma 8-0, raga, sono troppo forte. Ah, stanno andando un po' di ragazzi. Grande. Pericoloso prendere qui la torretta. Però dai! Velociziamoci. Grande, cosa la torretta? Fan culo! L'ho preso! Vai a cagare! Piastata la torretta, raga. Devastiamo, li stiamo vincendo e dobbiamo vincere. RCXD, alleato operativo. Ma l'ericotrano serve un cazzo, raga. V2, nemico in arrivo. Dai! Che cazzo? Ah, vabbè, bravo. Sei un grande cecchino, zio. Andiamo. Minchè l'ericotrano, ragazzi. Da, ma stiamo scherzando. Raga, non muore la gente. Questa cosa mi fa girare il cazzo. Dai! Facciamo il giro lungo e proviamo a salire dal... No, no. Ma muori grandissimo! Oh! Dai! Ma guardate la gente! 10, 4. Non va già bene. Andiamo, 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 andiamo. Ole! Uh, dai! Vero nascosto! Oh, due nemico in arrivo. Che palle! Andiamo! E' in volo. No, non ci credo, ragazzi. Non ci credo io. Ma stiamo scherzando, dai. Ma me li hai fottuti, bastardo. Dai! Fuori dai coglioni! Testa di uo... Vai, grandissimo, zio. Merda! Merda! Andiamo! Grande! E' in culo. Rc. Ti nemico rilevato in zona. Oh! No! Cazzo, mi è in culato! Fanculo, fanculo. Bah, dai, via. Andiamo qui. Ma e... Vai a cagare! Intanto ti ho ucciso, eh? Shot Beach, grandissimo. Fanculo a te. Eh, questo? E' in culo, va. Attenti, Rcx di nemico individuato. Stiamo vincendo, non fermatevi. Il nostro U2 è in culo. Fa cagare! Però mi ha ucciso l'altro, vaffanculo. Dai, tre minuti, ragazzi. Andiamo. Ragazzi, non so se avete visto quanto cazzo sta lagando in questo gioco. Ho due nemico in culo. U2 è pronto. Il nostro U2 è in culo. Grande, ragazzi, abbiamo vinto. A ogni vittoria, il nemico ci teme di più. Fa 21-10, ragazzi, non posso lamentarmi. Ottima partita. Bello. Questa è il Galil, ragazzi. Miserva, eh, che l'hanno migliorato un casino nel 2. È una bestia. Ma sicuramente, se non ricordo male, era una bestia anche in questo gioco. Allora. Spero che il video vi sia piaciuto, ragazzi. Spero che riprendere in mano Black Ops 1 vi abbia fatto tornare le nostalgie di questo gioco. Iscrivetevi, commentate il momento di mi piace se ovviamente avete apprezzato il video. Da Cure93 è tutto. Se volete che faccia anche qualche partita zombie su Black Ops 1, tipo in Kino Der Totten. Io posso farlo là. Su Kino Der Totten, Shangri-La, Moon e l'altra Call of the Dead. Ditemelo pure. Io ovviamente sono a vostra disposizione se volete proprio che ve la faccia vedere. Quindi da Cure93 è tutto. Ci vediamo alla prossima. Ciao, raga.